Cos'è il cancro alla vescica di stadio 4? Il cancro della vescica allo stadio 4 è una forma metastatica o diffusa di cancro. In questo tipo di cancro, la crescita normale delle cellule che caratterizza tutti i tumori forma un tumore che ha origine nelle cellule di transizione che rivestono la vescica stessa. Allo stadio 4, le cellule del tumore si sono diffuse dalla vescica da altre parti del corpo. Tipicamente, la progressione del cancro è divisa in stadi misurati dalla crescita e dalla diffusione generali della malattia. La fase 4 è la fase finale del cancro della vescica. In questa fase, le cellule anomale si infiltrano in siti distanti del corpo, come altri organi linfonodi, causando tumori in altre parti del corpo. I tumori dello stadio 4 sono generalmente considerati sistemici, il che significa che non sono più confinati in un'area localizzata e ora effettuano il corpo nel suo complesso. I siti più probabili per la diffusione del cancro della vescica allo stadio 4 sono, in nessun ordine particolare, i linfonodi che circondano la vescica, il retto, la prostata, la vagina, l'utero o gli ureteri. In alcuni casi, i tumori possono diffondersi in aree meno tipiche o in aree più distanti dalla vescica. Le cellule anomale viaggiano usando il sistema linfatico, che è una parte critica del sistema immunitario con avamposti su tutto il corpo. Meno comunemente, quindi, il cancro della vescica allo stadio 4 può attaccare i linfonodi nel bacino, nei polmoni, nel fegato o nelle ossa. Una volta che la malattia si diffonde, si sforza di creare tumori in altre aree del corpo. Questo riduce drasticamente la probabilità di costringere il cancro alla remissione e riduce anche il numero di opzioni di trattamento disponibili. La combinazione di progressione nella malattia e regressione nelle opzioni disponibili per trattare il cancro della vescica in stadio 4 si traduce in un basso tasso di sopravvivenza per le persone affette da questa condizione. Il carcinoma della vescica di stadio 4 non può essere efficacemente trattato con terapie mirate come la rimozione della vescica, la chemioterapia o l'immunoterapia. Una volta che la malattia si è diffusa in più aree del corpo, l'unico approccio terapeutico è quello che colpisce il paziente nel suo complesso. Un esempio di questo è la chemioterapia diffusa, che può essere un protocollo di trattamento difficile da tollerare per i pazienti. Anche se un piano di trattamento diffuso è pratico, il cancro della vescica in stadio 4 è ampiamente considerato terminale. Se il cancro si è diffuso solo ai linfonodi circostanti, tra il 10 e il 15% delle persone sopravviverà per più di 5 anni. Se il tumore si è diffuso al fegato, alle ossa o ai polmoni, il tempo di sopravvivenza medio è tra 12 e 18 mesi. I tassi di sopravvivenza concreti sono difficili da valutare, perché ogni caso è unico. Risultati migliori sono anche possibili per le persone che ricevono assistenza in luoghi in cui vengono condotte prove cliniche.